Cari amici dei Colori del Serchio, buona domenica. Oggi in effetti è il giorno 23 di agosto 2020 e sono qui per fare un annuncio. Un annuncio che riguarda proprio la nostra trasmissione, appunto i Colori del Serchio, che domani mattina, lunedì 24, si recheranno nella città di Lucca, proprio nel centro dell'antica città toscana, dove i Colori del Serchio affronteranno un argomento non ancora affrontato nelle nostre trasmissioni. Sì perché vi abbiamo fatto vedere ambienti, sentieri, paesi, fortificazioni e naturalmente le tantissime essenze botaniche della nostra zona, raccontando tutto il mondo che ruota intorno a questi fratelli verdi così ricchi di informazioni. Però domani facciamo questo esperimento. Entreremo in un luogo davvero unico, magico direi, e vedremo come le piante possono essere contestualizzate anche all'interno di un ambiente davvero tanto suggestivo e credetemi. Voi vedrete la trasmissione a partire da sabato 29 alle ore 21, poi ovviamente tutti i giorni a seguire con il normale orario del palinsesto, che alla fine di questo video comunque viralmente lo. E quindi non c'è che da seguire questo nostro nuovo lavoro, mio, Marco Pardini e Abramo Rossi, l'ideatore della trasmissione, che stavolta ho convinto a entrare in un luogo davvero particolare. A presto! Grazie a tutti!